E' stata presentata presso il Centro Arti Visive Pescheria, in occasione di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, l'opera immersiva The Life di Marina Abramovic. Un evento destinato ad entrare nella storia mondiale, poiché è la prima volta che l'artista propone una performance in doppia dimensione, come lei stessa afferma nel video messaggio proiettato in occasione dell'evento, che sarà fruibile dal 5 al 18 giugno. E' stata presentata presso il Centro Arti Visive Pescheria, in occasione di Pescheria, in occasione di Pescheria di Pescheria di 2024. E' stato presentato con Team Drum il mio nuovo lavoro di mix-media, chiamato The Life. E' know che questo festival è concentrato sulla relazione tra la città, la natura e la tecnologia. E' stato baseato sull'artista performance, e questo è il mio primo experimento e il mio primo attempto per usare la nuova tecnologia e l'idea di come la performance arti potrebbe essere vista nel futuro, se la performance arti non è ancora là. Spero che vi piaceremo questo evento e partecipate nella mia presentazione con Team Drum. L'opera realizzata da Marina Abramovic è dunque il frutto di un lavoro incentrato sull'utilizzo delle nuove tecnologie che attraverso un visore digitale permette di immergersi all'interno di quest'ultima, come spiegato dal regista Todd Eckert, presidente e fondatore di Team Drum. Il pubblico indosserà un dispositivo che è la prima volta che verrà mostrato qui in Italia, in realtà è proprio la prima volta che verrà utilizzato in Italia. E in realtà quello che ci interessa non è la tecnologia, ma quello che siamo riusciti ad ottenere con la tecnologia stessa perché avremo Marina che si troverà nel centro della stanza e sarà visionabile proprio a 360 gradi. E quindi è proprio la performance che ci interessa di poter trasmettere al pubblico, quindi quello che il pubblico potrà aspettarsi è semplicemente di vedere una cosa che non ha mai visto prima. The Life rappresenta per Pesaro 2024 un traguardo storico a livello mondiale, poiché è proprio nella città di Pesaro che si terrà il primo evento immersivo di arte performativa in realtà mista, che sviluppa l'ologramma di Marina Abramovic trascendendo la sua assenza fisica e riflettendo così il potere dell'arte come forza non tangibile. Una performance che propone alla città una grande riflessione sulla presenza del corpo, ma soprattutto ci consente di ragionare sulla relazione tra natura, arte e tecnologia che è il tema proprio di Pesaro, capitale italiana della cultura. Quindi un grande sogno quello di avere un artista della portata di Abramovic a Pesaro ma soprattutto l'occasione per poter fare anche un bilancio di questi sei mesi di capitale della cultura, una capitale che come sapete è costellata di eventi che spaziano tra diversi linguaggi espressivi e anche della comunicazione sociale. È un lavoro di significato profondo che ha a che fare con la connessione umana, ha a che fare con la presenza, con l'assenza, ci pone anche nuovi interrogativi, magari anche qualche soluzione rispetto anche ai periodi, pensiamo ai due anni della pandemia, quindi allo sfilacciamento dei rapporti, ma anche alla necessità di riconnetterli con e senza l'apporto del digitale, misurando quindi la presenza o l'assenza ma soprattutto è anche una grande occasione per riflettere sulle relazioni umane. In questi giorni in maniera completa, compreso tanto il lavoro di backstage degli episodi precedenti da Parigi a Londra a Berlino a Los Angeles che Marina Brown ci ha tenuto prima di Pesaro, ora in questa versione più completa c'è la possibilità di percepire tutto il senso dell'esperienza fino al 18 giugno quando sarà fisicamente con noi Marina Abramovic al Teatro Rossini per incontrare assieme al curatore il pubblico ed entrare quindi anche fisicamente nella città e nell'incontro con le persone.